Buongiorno a tutti, ci troviamo nel territorio di Avegno, in provincia di Genova. Buongiorno a tutti, oggi vi presenterò un programma che hanno organizzato il comune di Avegno, che è la Mangia Corta, è la seconda edizione e pare che abbia raggiunto un notevole successo. L'anno scorso è stata una gita strepitosa in questo territorio da scoprire e quest'anno pare che i telefoni del comune siano impazziti per le prenotazioni. Davanti a me abbiamo l'assessore al turismo che è il signor Ugo Santoro e ci parlerà di questa Mangia Corta e come è nata l'idea della Mangia Corta e che cosa provvede il percorso. Quindi per quelli che sono ritardatari, non abbiate problema, fatevi lo stesso avanti perché ce n'è per tutti. Il territorio offre tantissimo per cui se non sapete come passare una bella domenica venite qua a Avegno. Intanto lascio la parola all'assessore che ci spiega come è nata l'idea della Mangia Corta. Sì, buongiorno. L'idea della Mangia Corta è nata semplicemente per dare l'opportunità a tutti di conoscere questo territorio, valorizzare il nostro territorio, un territorio che è molto vasto, uno dei più grandi qua della zona, tutto nel verde ed è vicinissimo al mare, 8 minuti di macchina, 4 chilometri a piedi al mare. Quindi gode di questa posizione strategica tra la campagna con dei boschi e delle viste stupende e il mare vicinissimo. Penso che una posizione migliore non ci possa essere. è un paese a misura d'uomo. Tutti amano, non a caso, i nostri abitanti aumentano continuamente di gente che si trasferisce dalle zone limitrofe al nostro comune proprio per questo aspetto. Particolarmente dalla città si trasferiscono qua? Assolutamente sì, assolutamente sì, perché comunque la città offre delle cose ma ne toglie anche altre, cosa che invece noi riusciamo a dare, come ripeto, tranquillità, aree pulita, territorio stupendo, alimenti anche naturali che a chilometro zero che sul territorio si trovano. Io so che qua c'è la coltivazione degli apicoltori. Sì, è una cosa piuttosto sentita, così come la coltivazione dell'olivo, qua si fa dell'ottimo olio. Extra vergine, spremuta a freddo e ancora alla macina antica. Assolutamente sì, quindi è un territorio direi non perché è nostro ma è sicuramente da valorizzare, poco conosciuto e quindi l'idea della Mangiacorta è nata per questo, è nata per poter valorizzare questo, oltre a dare l'opportunità di un momento così ludico e di aggregazione fra le persone. È un bel modo di incontrarsi, è un bel modo di passeggiare nel verde e vedrete coloro che vengono e parteciperanno, vedrete degli scorci che sono da sogno, non temo smentita su questo. L'anno scorso, siccome questa è la seconda edizione, l'anno scorso la Mangiacorta si è svolta in un altro territorio del nostro comune che si chiama Testana, altrettanto bello, altrettanto emozionante e quest'anno abbiamo pensato di far conoscere una località che si chiama Vegina e il percorso che è lungo 12 chilometri si articola nel comune di Avegno, nella frazione di Vescina, salendo sul bosco e quindi al passo del Gallo e passeremo anche, sfioreremo il territorio di Rapallo dove c'è il santuario di Caravaggio che per l'occasione sarà aperto, darà la possibilità a chi lo vuole visitare di poterlo fare, anche questo è un luogo emozionante, molto bello e quindi un'opportunità per conoscere il territorio, un'opportunità per stare all'aria aperta, stare in compagnia, mangiare delle cose buone perché il menù che va legato è lungo il percorso. So che appunto ci sono delle cucina tradizionale genovese, la vera cucina proprio, come facevano le vecchie nonne. Assolutamente sì, ci saranno le troffie con le patate e i fagiolini, come si facevano una volta, il pesto è buonissimo. Poi ci saranno le torte di verdura, come facevano. Le torte di verdura che si facevano una volta come aperitivo, insomma sarà proprio una bella occasione stare insieme, divertirsi, conoscere il territorio e vedere delle cose che... Io mi ricordo che l'anno scorso nella Mangiacorta, mi chiedo scusa se l'ho interrotta l'assessore, ma durante la passeggiata ho potuto notare caprioli che sono bellissimi, dei cinghialetti bellissimi e un incontro particolare con la natura, oltretutto c'erano un punto dove c'erano i mirtilli e quindi questa cosa qua mi ha colpito molto. Io so che però qua da Vegno fate anche altre iniziative, no? Tipo la festa di San Pietro che è il 27, 28, 29 e 30, che si svolge? Dove? Qui in piazza? Si svolge nella piazza della chiesa, anche questa è un'antichissima tradizione, tra l'altro San Pietro è il patrone del paese, quindi è sicuramente una cosa sentita da tutti noi e poi tutti i comitati come da tradizione, noi abbiamo quattro frazioni che sono Vegina, Salto, Testana e Da Vegno, tutte e quattro nel periodo estivo svolgono delle iniziative così di incontro, ludiche e di cucina innanzitutto. Quindi San Pietro è il patrone, quindi come dicevo è una delle feste più sentite, però anche negli altri comitati si danno da fare, sono presenti e valorizzano anche loro questo territorio. Anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti i comitati e tutti gli sponsor che ci hanno aiutato per realizzare la Mangia Corta, per tornare al discorso della Mangia Corta che è il motivo del nostro incontro. Hanno un lavoro dietro che non vi dico, perché organizzare le cose sembra facile a parole ma poi sui fatti. Quindi ringrazio moltissimo tutti i comitati che ho appena elencato, Vegina, Salto, Testana, Avegno, ma innanzitutto la Pro Rocco che si è fatto portatore e ha veicolato tutte queste sinergie cercando di organizzare la cosa al meglio. Il comune da parte sua, come sempre, è presente e ha favolito questo tipo di iniziative perché non potrebbe essere diversa. Comunque ho visto che siete anche forniti di mezzi, per cui uno che vuole venire qua in vacanza una settimana, so che c'è qualcuno che affitta anche appartamenti eccetera, non avesse il mezzo proprio, hanno la comodità anche dei mezzi che li mettono a disposizione la provincia per arrivare al mare e andare a visitare Genova, l'Acquario e tante altre cose, no? Assolutamente sì, è molto fornito e ben distribuito, come dicevo è molto vicino alla città di Recco che quindi dà ampie possibilità per arrivarci in treno piuttosto che con l'autobus, oltre che con la macchina naturalmente, dà altissime disponibilità. Sì, offre le comodità dei mezzi, sì esatto. Anzi, a proposito dei mezzi ricordo ai partecipanti della Mangia Corta che poi potranno utilizzare un servizio di navetta per poi tornare a recuperare la macchina nel parcheggio, quindi direi che la cosa è organizzata al meglio. Questa iniziativa ci teniamo molto, come ripeto, per poter dare l'occasione a tutti di conoscere Avegno che è un paese meraviglioso. E quindi vi aspettiamo numerosi? E quindi vi aspettiamo numerosi, assolutamente sì. Allora io vi ringrazio e comunque lancio un messaggio a chiunque fosse interessato a vedere Avegno o a sapere gli eventi che si svolgono in questo territorio. Può contattare anche il sito della Proloco su internet? Sì. Chi è? Oppure il sito del comune? Chi è? www.comune.avegno.g.it Ok, perfetto. Quindi noi vi aspettiamo numerosi e alla prossima puntata vi farò vedere qualcos'altro di questo splendido territorio. Per oggi vi lascio buon weekend a tutti. Vai, grande, ciao e grazie. Grazie a tutti, grazie. Grazie a tutti.